Il mio nome è Vincenzo e il mio cognome è Salemme. Io sono Enzo Righi, in arte David Carradine. Mami, mi sono Stefano. Sei mio fratello e quando tu parli con questa voce, cosa si passa? Io sono l'avvocato Saponetta e non fare battute su un cognome. Saponetta, questa non è una bolisa posto. No. Francesco, Righi, per gli amici, Chico. Sta partendo la funicolare? Questa non è la funicolare, questa è l'ascensore, serve a salire e a scendere. Perché la funicolare? Tre fratelli, tre matti, tre disperati, tre disperazioni. Vivere in una casa come la famiglia Righi non è facile mantenere la calma. Ti pò vado il capellone. Pronto? Voglio morire. Chiamato in un brutto momento, forse? Con quello là che rompe le scatole da una parte, quello che mangia purè, che fa i personaggi, insomma, è una tragedia. Il biglietto ce l'avete? No, portatemi in galera. Forza. Oddio. Abbiamo lavorato per tanti anni insieme in teatro e abbiamo fatto anche i primi film, i miei primi film li ho fatti con loro come attori. Insomma, un po' di maturità in più c'è, non è che sembra proprio scemo come una volta. Si ricordano il purè, si ricordano la pizza, pazziatatà. Pazziatatà, pazziatatà, pazziatatà. Amici miei, basta lamentarsi, cominciamo a essere contenti di quelle che abbiamo, non di quelle che scontenti, di quelle che non abbiamo. L'importante è che andate al cinema e pagate biglietti. Anche due biglietti. Fuorinevica. E fuorinevica. E fuorinevica. Al cinema.